Mi chiamo Ibba Eliseo. Ho fatto l'intervento per avere i denti fissi in 24 ore. Avevo vergogna anche di fare un sorriso con gli amici. Adesso mi trovo bene, anzi lo faccio vedere perché sono contento. Mastico bene, quando mangio digerisco meglio, prima non ce la facevo digerire e che Dio vi benedica. Sono contentissimo.